Nell'ambito del progetto della promozione della cultura statistica, l'Istat ha incontrato i giovani dell'Istituto Canudo di Gioia del Colle, in provincia di Bari, per illustrare la nuova strategia censuaria e le principali attività svolte dall'Istituto. Per coinvolgere i ragazzi sono state presentate statistiche relative alla popolazione giovanile, su diverse tematiche, istruzione e formazione, condizioni socio-economiche, salute e stili di vita, cultura, sport, tempo libero, illustrando loro gli strumenti, come la banca dati e i.stat, dove reperire queste informazioni, in una sorta di percorso a ritroso, dove partendo dalle tabelle e dai grafici sono stati forniti input per arrivare alla fonte. I ragazzi sono stati coinvolti in prima persona, da un lato attraverso il commento di grafici e tabelle, dall'altro attraverso una piattaforma di apprendimento accessibile tramite un browser web e basata sul gioco. In un clima di interesse si sono sfidati con quiz a scelta multipla, dove hanno testato la loro conoscenza sui fenomeni demografici, ambientali, socio-economici che l'Istituto descrive.